sorridi Vito se sui schemi di camera andiamo ti puoi andiamo oh c'è che ti ferma ti ferma andiamo andiamo ben che in dire è la discesa della strega andiamo 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 e andiamo 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 and 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 Sì, anch'io, chi ha picchiato così? Ho sentito una botta dalla miseria. E' la sua moto. Ah, ecco, che cazzarola ho detto, che cazzo del gesto? Lungo! Ciao, grazie. 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 Grazie.